Che cosa credi? Io credo proprio nell'uomo. Lucio ha creduto in te e tu hai creduto in Lucio. Sì. In occasione dei dieci anni dalla scomparsa di Lucio Dalla. Ero in assoluto alimento il cantante meno ascoltato, più odiato, meno capito. Sempre sorprendente. Movimento continuo. Uno straordinario documentario di Pietro Marcello. Cantiamo tutti quanti insieme. Una presenza fuori tempo. Le canzoni rimangono, il corpo sparisce. In prima visione assoluta per Lucio. Giovedì 21 e 20 Rai 3.